Come cambiare la tua casa senza cambiare casa? Con i colori, gli stili, i materiali dei tessuti che ti accompagnano tutti i giorni come la collezione Zishik di Zuki, un mondo romantico di eleganza colori sfumati, disegni floreali e primaverili fresco e ricercato con tessuti preziosi e dettagli di confezione dal percalle al raso agli jacquard una collezione per le esigenze più diverse che accarezza l'animo sfaccettato delle donne un mix di eleganza classica ed energia cromatica contemporanea belli da vedere e anche da toccare grazie al preziosissimo Cotonusa coltivato responsabilmente e sinonimo di qualità e morbidezza sono prodotti Zuki Real Time Selection scelti per te da Real Time per fare di una casa la tua casa